bella boys io sono pj oggi siamo in un video di sponsor avevo detto che lo facevo prima del mio compleanno a dicembre però dato che siete molto attivi sul mio canale quindi ho deciso di farlo ora gli sponsorizzati sono quattro per un motivo perché il quinto vi saluto chi è più attivo allora il primo e flow ita non ha commentato molto però dice che mette sempre mi piace e mi manda di screen ogni volta che carico un video quindi per farmi vedere come se mi piace a 29 mila più sensazioni e 3.800 se non sei iscritti postate dal suo canale appena dal suo canale nei video parla di gameplay oppure anche fa dei blog o altro poi l'altro sponsorizzato è johnny x lui sta è il più attivo sul mio canale all'incirca perché c'è anche chris games che che attivo proprio attivo proprio per superare lui ci vogliono tanto lui fa anche sponsor a minecraft e gameplay di tutti i generi però tratta per lo più minecraft mi sembra formazioni a 410 iscritti e 4803 visualizzazioni i pal che gli fallo mi sembra il pal così se l'ho pronunciato male praticamente andiamo le informazioni a 1495 visualizzazioni e 47 iscritti andiamo sul video e vediamo di cosa tratta tratta di gameplay horror minecraft anche parla di giochi di gameplay di ogni genere ok fa anche dei video aggiornamenti come vlog tipo l'altro sponsorizzato attivissimo però non come case ma è attivissimo però tutti i video tutti quanti e fabio ghost warrior 1053 iscritti allora siamo riconosciuti e fabio ghost warrior 1053 visualizzazioni 119 iscritti lui mi segue da tantissimo tempo tipo da quando avevo 120 iscritti 400 non so non mi ricordo fa minecraft spy wars ma non penso che sia faccia solo sky wars perché pure io lo seguo e fa anche altri giochi crash baby god ok poi fa anche happy wheels e altro ok allora ragazzi i sponsorizzati sono ripetiamo cloita johnny x johnny x no poi il pal e fabio ghost warrior allora io saluto tanto mike 64 che non l'ho potuto non l'ho potuto sponsorizzare perché l'avevo già sponsorizzato scusami mike però è attivista sul mio canale e se magari faccio farò un altro sponsor in futuro perché questo fa sarà l'ultimo e magari ti sponsorizzerò allora saluto mike saluto chris games attivissimo poi non mi ricordo andiamo a cercare sul mio canale andiamo sul video fermo e andiamo a vedere chi posso salutare ah sì ora mi sono ricordato saluto tantissimo anche g6 e tutti i membri della community allora scusate mi sono ricordato tutti però i più importanti sponsorizzati erano erano questi cloita johnny x il pal e fabio ghost warrior perché sono stati molto attivi chrisi games questo è il suo canale dai aggiungiamo anche un pinto allora a 740 iscritti ea 1809 visualizzazioni per questo io so per ok mi sono confuso se questo video possa essere tutto noi ci picchiamo in un prossimo video usate per il video corto corto ma il mio computer proprio per ora non ce la fa a sostenere video lunghi noi ci picchiamo in un prossimo video è possibile di minecraft vi ricordo che l'unico modo per essere sponsorizzati da me e essere attivi però non vi sponsorizzo più con questi sponsor ma posso soltanto sponsorizzarvi salutandovi quando mi fate una domanda in un fuck you time quindi per questo video possa essere tutto ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti ragazzi